Assessore Guidesi, tappa Palazzo Lombardia per il G7 delle infrastrutture, ovviamente sviluppare la rete e l'intermodalità ha grandi benefici anche per le imprese di cui lei si occupa tutti i giorni. Per noi è fondamentale, è un fattore di competitività, vuol dire sostanzialmente come si muovono le merci in Lombardia, quanto velocemente si muovono, come si muovono anche in maniera sostenibile anche dal punto di vista della tracciabilità. Per cui è un criterio di premialità e la discussione di oggi speriamo sia utile anche a tanta innovazione e anche a tanta capacità del sistema lombardo, anche attraverso il contributo del governo che ringraziamo per aver scelto Milano e la Lombardia come sede del G7 dei trasporti per un futuro dove la Lombardia e il suo sistema economico continueranno ad anticipare i tempi. Grazie per averci seguito, ci vediamo presto.